Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo su Clash of Clans per un'altra clan war clan war che stiamo praticamente dominando e abbiamo già praticamente vinto 92 a 15 e mancano 4 ore e 25 minuti, è stato un massacro un totale enorme massacro, un clan cinese a livello 4 li abbiamo sterminati, hanno fatto 15 stelle e noi li abbiamo fatte 63 mostruosi, un clan così non si era mai visto, arriveremo sicuramente molto molto in alto voglio farvi vedere anche che non essendo in scalata proprio così a random a cazzo, in locale non è che siamo messi malissimo come clan certo non siamo chissà quale clan, però penso che se ci mettiamo a scalare molto velocemente si arrivano in top 200 molto 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 rapidi già siamo mille e sessantesimi così proprio per dire altra cosa voglio farvi vedere tutti i clan confederati perché se state per entrare ecco questi sono tutti i clan confederati, ci sono molti clan vuoti praticamente il 70 sconf, il conf tm 70 più, il 00 sconf questi sono vuoti, se volete entrate e state un po' là finita questa clan war, quindi si parla di oggi come... sì no, vabbè, insomma, fatto stop appena finisce sta clan war, non so quando esce questo video probabilmente per voi oggi dovrebbe essere il 13 iniziamo a fare un po' di smistamenti e facciamo proprio il clan questo madre lo prendiamo da 80 più, forse anche 90 più sì, penso di sì, penso fare un 90 più quindi a bestia proprio 90 più significa essere a bestia, a bestia, a bestia mi dispiace se non mi sono fatto sentire più di tanto in questi ultimi due giorni ho avuto un po' da fare tra università e tutto il resto, parlo all'interno del clan per i 50 membri del clan comunque, e le truppe sono pronte, è pronto quasi tutto, andiamo a fare ricognizione di questo qua che dovremo attaccare e massacrare allora, io non so perché lui abbia messo un inferno qua questo non l'ho ancora capito bene però, questo l'ho fatto l'idea è, avete detto sul go wipe di attaccare le truppe del clan proprio durante lo scontro quindi io penso di partire da qua, come al solito spacca muro qua, spacca muro qua e poi abbiamo anche il salto, se non ce la facciamo mettere un saltino qui, che ti prende tutte e due le mura massacriamo tutta sta roba qua e poi ci andiamo a tentare di fare la seconda stella, vai è tutto pronto, l'attesa è finita si comincia, attacca pronto, cari, vanno a massacrare tutti uno, due e tre, vai poi partiamo con gli spaccamo oh no, non ho visto quel cazzo di cannone danno, danno, grave, danno, grave, danno, grave gravissimo danno, danno, grave, gravissimo ho sbagliato tutto comunque, se riesco a mirare quello, è buono forza così, va bene mettici dentro adesso, aspettiamo un attimo voglio mettere un saltino qui a bestia mettere qualche altro mago, così, dietro a bestia questi qua, uno e due mettere la prima furia qui ok, ci sta buono, 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 ci siamo, ci siamo questa roba qua, i maghi finiamo di mettere i maghi e a bestia proprio, abbiamo finito, completato qui ci metti, ho fatto un casino ho fatto una cazzata enorme proprio a bestia, ho fatto una cazzata cazzatissima ho fatto un bel errore, forse no, dai, non tanto la stella la prendiamo, sicuramente che la prendiamo la stella, sono stato un po' disattento i maghi mi hanno fatto tutto il giro la prima stella l'abbiamo presa sicuro, buono, ottimo il power del re possiamo attivare, mi sa sì, penso di sì, di attivare il power abbiamo preso anche la seconda stella ok, tre stelle non so se non penso di fare tre stelle è totalmente impossibile che riesco a farle, giusto? o forse no il re è morto il loro re ho un sacco di maghi in là che possono fare casino mi è morto il mio re sì, no, ok, non ce la faccio mi sono partite tutte le difese buone le ho a spaccare però, oh, cazzo non era male abbiamo fatto un bel 70% attiviamo il power della regina ho usato soltanto due incantesimi no, tre un salto, una furia poteroso poteroso peccato, guardate era un 100% fattibile secondo me c'è ancora qualcuno che sta combattendo? no, è finita la battaglia termina la battaglia un paio di stelle un bel bottino non male non male l'esperienza del clan ha raggiunto livelli discreti decisamente discreti 162 più 50 andiamo a 112 su 120 che è quasi il massimo abbiamo il percentualistrazione del 78% che clan pauroso comunque ci prepariamo per fare magari un'altra un'altra stella questo prendere un'altra stella questo è incredibile vediamo l'attacco che ha fatto un nostro alleato ha usato uno schermo un golfiere un mastino lavico vediamo dove ha sbagliato perché ha fatto soltanto cioè ha sbagliato vediamo perché ha fatto soltanto una stella vediamo anche le truppe del clan che ci sono mette tutti gli sgherbi intorno parte col mastino un mastino qua perché ci sono due difese aeree ovviamente mastino e mastino tutti i cosi là perché aveva un sacco di bombe e ha massacrato i mastini con tre mastini una furia beh diciamo che gli è andata di sfiga perché aveva penso avrà distrutto quasi tutte le difese e non ha preso town hall secondo me ha fatto il 50% e non ha preso il town hall probabilmente potrebbe essere andata così gli mancava forse qualche gelo le cure non servono secondo me non è molto utile utilizzare cure con una strategia del genere gli è andata decisamente di sfiga perché poteva sicuramente fare prendere il town hall non è riuscita a distruggere queste difese qua che probabilmente gli hanno dato forse più fastidio attiva il power della regina spacca il re finiscono in questo momento le cose eh si non riesce a prendere il town hall la town hall però 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 insomma l'attacco è discreto io penso di usare sempre il solito go wipe no go golem wizard go wipe si ricognizione un attimo voglio andarmi a vedere voglio anche prendermi il bonus obiettivamente è un bel bonus da qua partiremo io direi di partire da qua spaccare tutto il clan il castello del clan sta qui fotte sega mi da fastidio il fatto che dovrò mettere un golem qui uno qui e uno qui probabilmente mi hanno no mettiamo uno due tre si devo concentrare in questa zona spacca muro successivamente poi apri qua qui ci si mette anche un asalto è tranquilla buono ok va bene ho in mente come fare l'attacco adesso mi ripreparo tutte le truppe del caso mi vado a rifare un po' tutti gli arsenali anche se i nadi sono già pronti praticamente perché quante ne abbiamo ecco già 126 comunque mi ripreparo tutte le truppe e poi vediamo di massacrare l'altro componente del clan avversario bene eccoci qua la clan war è praticamente finita è finita senza praticamente è finita e vi faccio vedere i risultati 29 a 20 220 su 220 di XP meraviglioso no? un qualcosa di fantastico l'80% di distruzione si è 81 si è prossima non è male non è male oggi per concludere ci andiamo a fare un attacco poi finiamo ci andiamo a fare due considerazioni riguardo ai vari clan e poi poi ci salutiamo soltanto qua a questo attacco facciamo un attacchino a bestia proprio mirato al fare risorse e poi a prendere trofei non mi interessa particolarmente attualmente prendere trofei però ci prendiamo il bonus di lega ci prendiamo un po' di risorse non è male anche se usiamo una gugu hype forte sega no? quindi adesso andiamo a cercare il villaggio ideale e poi ci rivediamo bene penso che questo possa essere tranquillamente attaccabile perché è un tunnel 9 e voglio fare anche farming quindi partendo da qui come al solito penso di spaccargli subito la regina prendere la town hall e poi espandermi anche un altro po' e prendere questi altri due depositi quindi in totale faremo 300-300 un sacco di trofei siete pronti secondo me si può partire sì così 1, 2 e 3 via con questi iniziamo a mettere dietro un po' di bestiacee i due pecca ancora spaccamuro spaccamuro di qua spaccamuro queste bestiale qua 1 e 2 mettiamo una bella furia qui furia ho detto furia veloce spaccali tutti ma proprio a bestia mettiamo un asalto no ho attivato il power della regina è stato un errore modernale riesco a spaccare la difesa aerea dai spacca della difesa aerea buono ci buttiamo giù il draghetto il salto ha funzionato a dovere ci possiamo mettere anche una bella gelo ci mettiamo la gelo no fotte sega della gelo il drago farà il resto e adesso non ci resta che aspettare al vanno a prendere questi due perfetto i pecca si occupano della town hall bellissimo meraviglioso anche tutto ciò mi è morto il drago morto il draghetto fotte sega dove mettiamo la seconda salta la mettiamo qui sì giusto buono se il re ecco attiviamo un attimo il power del re almeno mi va a spaccare lì spacchiamo anche quest'altro deposito i golem vanno a mirare la tesla ci manca un pecca che adesso è stato massacrato abbiamo ancora un sacco di di stregoni un sacco di stregoni che se mi vanno dalla parte giusta è molto buono peccato se ne sono andati là guardate facciamo un po' di zoom qui c'è qualcuno che sta lottando ah c'era un golem ci sono ancora tre golem piccoli i maghi sono praticamente tutti morti e peccato non siamo riusciti a prendere questo deposito qua perché i giganti vanno dove vogliono perché non tancano i golem ci sono andati apposta ecco e poi il golem sì giustamente il gigante sì il re barbaro gli ho chiamato gigante re barbaro tipo miglia volte se ne va a prendere le mura perché perché te ne vai a prendere per quale motivo comunque l'attacco non è andato male abbiamo fatto un sacco di risorse 73% tutto molto buono più bonus di lega bam non male non male non male non male mi ritengo soddisfatto poi arriviamo 8000 di elisir ci portiamo su sto portando su il mastino larico perché voglio iniziare a fare anche l'altra strategia mi serve un altro livello di mastino un altro livello di un altro paio di livelli di sgherri e poi possiamo fare anche l'altra strategia bestia con mastini sgherri e mongolfiere mongosgherri una roba mostruosa non ci serve nient'altro penso che dopo di che poi potenzieremo anche il pecca in modo tale a fare un go wipe completamente a bestia full proprio ci mancherà soltanto dopo gli eroi al 28 1 al 25 ci mancheranno diversi livelli di eroi ma li faremo faremo anche quelli comunque per questo vedi tutto anzi no mi sono scordato qui vediamo se stanno scrivendo roba forte poi donerò comunque questi sono i vari clan ok questo è l'annuncio importante ci sono questi vari clan ok questi sono tutti quelli confederati sono tanti ci sono alcuni clan vuoti per esempio 1 2 e 3 ok questo è quasi vuoto però 0 nel senso questi sono i player proprio più scarsi più scarsi è brutto quelli che hanno iniziato da poco perché effettivamente clash of clans è soltanto un gioco di attesa o gemmi oppure devi aspettare un sacco di tempo sia per fare risorse e poi per salire di livello perché devi aspettare che si compriano istruttore e tutto il resto quindi non è che l'esperienza si ok conta però è una questione fondamentalmente di tempo in tutti i casi voglio fare il clan non free conf attualmente siamo a 9 centesimi circa in Italia voglio arrivare tra i primi 200 è fattibile ho visto non è difficile però adesso devo fare una piccola una piccola purtroppo altra scrematura voglio fare un 90 più quindi 90 più rimuoverò tutti quelli che sono inferiori a livello 90 che andranno in un altro clan e poi spero di avere un sacco di gente di riempire un clan da 50 persone con un 90 più riuscendo a fare questo arriveremo a un clan sicuramente ottimo avremo davvero molte buone possibilità di arrivare tra i primi 200 mi dispiace tantissimo perché ho conosciuto tantissime persone un sacco di miei iscritti molto simpatici perché hanno scritto un sacco di roba sulla chat mi saluto sempre potete capire quanto sono contento di scrivere queste cose il problema è che io devo fare questa selezione è più utile ma è proprio per il clan nel senso abbiamo un sacco di clan confederati e se ci vogliamo tenere in contatto io sulla pagina facebook sono sempre disponibile a rispondere ai vostri messaggi quindi se volete scrivermi sapete come fare comunque per questo vi ringrazio tantissimo per la visione vi ricorda lasciano un bel piaccio se vi è piaciuto iscriviti al canale se non vi è già fatto condividi su facebook per farmi scelta una persona e diciamo come al solito al prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti